Una serie tv diventata un tormentone, un grande successo di pubblico. I primi 40 episodi della prima stagione sono stati il primo programma nella sua fascia oraria tra tutti i canali nel target ragazze 6-14 anni e Violetta, la prima serie coprodotta da Disney Channel Europa e America Latina. Girata a Buenos Aires è la storia di una teenager con una grande passione per la musica e dei suoi amici. La protagonista, Martina Sturzel, e il cast si sono presentati a Milano. È la loro prima volta in Italia. Sin da bambina, quando uscivo da scuola, mi toglievo la divisa, mi truccavo e mi mettevo a cantare e ballare davanti allo specchio, racconta l'attrice argentina. Il personaggio di Violetta l'ha resa famosa in tutto il mondo. È successo qualcosa che non avrei mai sperato né pensato. La realtà ha superato i miei sogni. È incredibile, dice. Sono un adolescente a cui piace cantare, raccontare barzellette e divertirsi. Non ho perso i rapporti con nessuno dei miei amici, né con la mia famiglia, ma ci sono cose le quali bisogna rinunciare e lasciare, e la vita. Ho scelto quello che ho sempre voluto fare e che amo, ma ho dovuto lasciare la scuola e frequentare via internet. Molte cose sono cambiate, ma ne ho guadagnate altre. Nel cast è forte la presenza italiana con Ludovica Comello e Simone Glioi, fratelli nella serie, e Ruggero Pasquarelli, che in 16 episodi interpreta Federico. La seconda stagione della serie, di 80 episodi, è partita il 3 giugno su Disney Channel con Ascolti Record.